Natale sotto le stelle 2018, Comune di Sava, assessorato al turismo e allo spettacolo. Ecco il programma degli eventi. 8 dicembre, allestimento albero di Natale artistico. Mercatino del dolce, del gelato e pettolata. Presentazione e carte da gioco savesi. Mostra di presepi per obbisti. 9 dicembre, grande tombolata in famiglia. Mercatini natalizi dalle ore 9. Inaugurazione, nuovo mezzo, angeli di quartiere, corpo di tutela civile. 12 dicembre, stage con Katia Ricciarelli, Accademia della Moda, Maria Antonietta Calò. 15 dicembre, cena solidale di Natale a favore di Teleton. Mercatini natalizi dalle ore 17. Notte d'arte, giornata dedicata all'arte in tutte le sue forme. Giornata dedicata all'informazione, talassemia e prevenzione. 16 dicembre, manifestazione di arti marziali. Mercatini natalizi dalle ore 9. Manifestazione sportiva Natale in Corsa 2018. Torneo di scacchi. Rappresentazione teatrale e musicale La Notte Santa. 19 dicembre, manifestazione di solidarietà. Note di solidarietà. Quarto concerto di Natale, Natale nel mondo. 20 dicembre, concerto di Natale, The Twelve Days of Christmas. Concerto di Natale, andate per le strade del mondo. 21 dicembre, raccontiamo il Natale. Evento musicale con gli alunni. Musical natalizio, Anfas Sava. Dal 21 al 27 dicembre, concorso a premi di mini presepi e benne ad abitare in mezzo a noi. 22 dicembre, maratona di Natale 2018. Campagna solidale Teleton. Grande divertimento per bambini ed adulti aspettando il magico Natale quarta edizione. Mercatini natalizi dalle ore 17. 23 dicembre, zampognari a Sava. La magia degli zampognari del Salento. Mercatini natalizi dalle ore 9. Concerto natalizio. 27 dicembre, buon anno in canto. Gruppo teatrale Passio Cristi. 28 dicembre, concerto del quartetto d'archi Le Faboulet. 29 dicembre, presentazione libro La magia nel Salento. 30 dicembre, concerto Natus Est. 1 gennaio, gran concerto di Capodanno presso la parrocchia Santissimi Medici. 4 gennaio, commedia La Lampada d'Oro. 5 gennaio, tombolata della Befana, appuntamento con la solidarietà. Aspettando la Befana, laboratorio di cucina per bambini. 6 gennaio, arrivo della Befana, distribuzione calze offerte dall'amministrazione comunale. 10 gennaio, dona una nota. Sodisys Christmas. Sava vi aspetta. Buone feste a tutti!